I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Torino non hanno dubbi. Deve ritenersi provata l'esistenza nel territorio della Valle d'Aosta nel periodo in contestazione di una associazione mafiosa denominata Locale di Aosta. I magistrati quindi hanno confermato la tesi del Tribunale di Aosta definendo l'associazione di una sorta di articolazione territoriale con autonomia gestionale decisoria dell'associazione di stampo mafioso denominata Andrangheta, della quale riproduce i rituali, i ruoli, le dinamiche comportamentali ed i modelli organizzativi nella quale sono stabilmente inseriti soggetti appartenenti a diverse endrine ed in particolare a quella dei nirta provenienti da San Luca nonché l'appartenenza tale sull'alizio mafioso di alcuni condannati. Si tratta di una organizzazione che presenta tutti gli elementi strutturali richiesti dal dettato dell'articolo 416 bis del Codice Penale alla luce di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di articolazioni territoriali del sodalizio mafioso costituite fuori dal territorio di origine. In questo senso l'intimidazione mafiosa può manifestarsi in molteplici forme nonché in dirette e oblique potendo raggiungere i propri effetti anche senza concretizzarsi in una minaccia o una violenza nelle forme stabilite dalle specifiche figure criminose previste dall'ordinamento penale.